Ciao, ciao, come va? Eh, non c'è male. È un po' che non ti vedevo, mi fa piacere che tu sia venuta. Vorrei farti vedere come si prepara un buon caffè sceccalato. Ok, sono curiosa e perché no? Ok, vieni. È una cosa simpatica. Dai, sono pronta per l'avventura, dai, spiega. Ok, un po' di ghiaccio. Sì. Lo versiamo qua. Il caffè che stai versando di qualsiasi tipo? Sì, vabbè, è di qualsiasi tipo di caffè. Ok, partire per questa avventura. Ok, oddio. Ok. Per quante ore devi sbatterlo? È lo stesso? Così, non farti scappare il tappo e siamo rovinati. Grazie innanzitutto per avermi insegnato a fare un fantastico caffè sceccalato. È stato un piacere. Bene. Lo sapevi che da quando sei in fornitura con Heinegan hai risparmiato mille chili di CO2? Sapevo di risparmiare ma mi fa piacere di aver risparmiato così tanto. Sei contento di aver risparmiato così tanto? Assolutamente sì. Bene. Allora possiamo fare un brindisi all'energia green. Grazie mille.